Gli inquirenti francesi hanno rilasciato uno dei due sospetti dell'attacco di questo venerdì a Parigi e messo in stato di fermo un'altra persona. Resta in carcere invece il diciottenne pakistano che stando ai primi elementi dell'inchiesta ha attaccato due persone con un macete. Si tratta di un attacco terroristico per il ministro dell'interno Gérald Darmanin. Ci troviamo di fronte a un atto di terrorismo fondamentalista che si è verificato nella via dove c'era Charlie Hebdo. La modalità operativa è una modalità dei terroristi fondamentalisti. Non ci sono dubbi, si tratta di un nuovo sanguinoso attacco contro il nostro paese, contro i giornalisti. Il principale sospettato ha riconosciuto le proprie responsabilità al momento dell'arresto anche se non è dato sapere se al momento del primo interrogatorio sabato o mattina le abbia ribadite. La via dell'attacco Roux-Nicolas-Père è la via di un altro drammatico attentato terroristico, quello ai danni della redazione del giornale statilico Charlie Hebdo nel gennaio 2015. È già stato versato molto sangue in quella via, siamo tutti sotto shock. Sono furiosa, ci chiediamo quando finirà. Nell'attacco due persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita.